Il voto viene ripetendo, la Toscana va in un altro punto, è il minimo che si possa fare. In questa lotta vorrei segnalare che le levità nazionali sono state approvate nell'ambito della conferenza, sono state regioni, con il voto unanime delle regioni. La scelta che fanno le levità è ovviamente metodologica, nel senso che non è che le levità nazionali, vi dico dove li puoi fare e dove non li puoi fare. A questo punto la regione pubblica è impegnata nell'individuazione rigida e rigorosa delle aree politiche, dopodiché, randandosi di attività, questo volevo dire a Carmine Di Rangelo con tutto il rispetto per la storia del Parlamento, le produzioni da fonti rinnovabili non sono programmati, non sono contingentabili, devono rispondere semplicemente di un sistema di programmazione territoriale. grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.